Musica Musica Vediamo se troviamo qualche sciancato che arriva Normalmente credo che uno abbia un po' di pregiudizio, abbia un po' paura di uno in carrozzina o uno con la protezione Musica Musica Non devono essere 6 litri di vino o 10 bile, perché comunque siete atleti, siete una nazionale, c'è sempre qualcuno che vi guarda Musica 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 Grazie a tutti.